Profittando del maltempo che fino a ieri ha colpito l'isola, rallentando le partenze dei migranti, 50 operatori e volontari della Croce Rossa hanno completamente ristrutturato l'hotspot che era davvero in cattive condizioni, con padiglioni allagati, bagni insufficienti, persone spesso costrette a dormire all'adiarcio, allo scoperto. Questi lavori sono stati fatti dalla Croce Rossa grazie a quello che è stato il principale vero cambiamento che c'è stato qui, cioè la decisione di passare non più da un sistema di appalto per la gestione del centro ma all'assegnazione per legge della gestione di questo centro alla Croce Rossa che ci ha fatto vedere come può dispiegare mezzi all'occorrenza attraverso bagni da campo, letti da campo e un'assistenza sanitaria di tipo molto più ampio che in precedenza per gestire i numeri che potranno arrivare fino a 1.500-2.000 persone nei momenti di emergenza anche se è stato specificato che ovviamente non è questo, questo non deve avvenire normalmente perché i trasferimenti dovranno essere molto più rapidi. A ispezionare il lavoro fatto è venuto anche il commissario per l'emergenza alle migrazioni, Valerio Valenti lo ascoltiamo e poi la linea può tornare allo studio. Il passo che spiegavamo quando siamo arrivati qui all'inizio soprattutto del mio mandato a gennaio è arrivato, è arrivato anche devo dire in breve tempo grazie a una legge, la legge 50 che ha previsto l'ingresso di Croce Rossa e grazie all'impegno degli operatori di Croce Rossa che in 20 giorni hanno rivoltato completamente la struttura, funziona la mensa che non ha mai funzionato, sono state cambiate tutte le brandine, è stato risolto il problema della raccolta dei rifiuti che era inaccettabile che la gente stesse per terra allo scoperto e quindi questa operazione è stata fatta. Evidentemente tutto questo funziona nella misura in cui la capienza viene mantenuta al di sotto della soglia accettabile che oggi è stata portata a 650 ospiti.